Giorgio Albera Ho fatto diverse mostre, di cui comics, che mi piace molto farle perché io dipingo fantasy, quindi dipingo Walt Disney. Ho fatto mostre importanti, tipo la Galleria Subalpina, l'Ingotto, il Salone del Libro. Ho partecipato anche a una mostra che l'aveva promossa la Pendino, la sindaca di Torino. Avevamo esposto con dei quadri inerenti al bullismo, Palazzo Carignano. Vorrei che tutti partecipassero a vedere le mie opere perché sono belle da vedere e da ammirare. È sempre orgoglio per noi, della città di Venaria, assistere e promuovere queste attività dei nostri artisti di Venaria. L'opera di Albera è un'opera molto eterogenea e significativa anche per la forma grafica che utilizza quasi manga. Ho delle bellissime immagini come questo samurai, espressione haichidica, che è l'esempio anche di una forma spirituale, nonché espressiva, dell'artista Giorgio Albera. Invito tutti i cittadini di Venaria a fare un giro presso la sede espositiva in via Mensa della Proloco perché possono dedicare pochi minuti ma pieni di significato e riempire gli occhi di bellezza.